Non sarà nessun referendum, anche perché chi invoca il referendum ho visto che la storia recente ha portato male, ma in realtà c'è un ballottaggio fra due persone, da una parte c'è chi ha argomenti deboli e si inventa un referendum, si inventa argomenti dell'ultimo minuto per attirare l'attenzione dall'altra, c'è un sindaco che ha un progetto di città che è già iniziato a realizzarlo in questi cinque anni e vuole portarlo a termine. Bisogna andare a votare, andare alle orne è importante. Sì, la vera sfida è che la gente ritorni a votare dopo 15 giorni, io mi rendo conto che un sacrificio può essere una scocciatura per alcuni, ma l'appello che io faccio è proprio quello di tornare e riconfermare il voto che mi è stato dato domenica scorsa, che io leggo come un voto dato a un sindaco delle persone, a un sindaco che dialoga con tutti, che ha attenzione, che ascolta, ma soprattutto che ha dimostrato di essere anche competente. E lasciatemelo dire, anche gli argomenti di questi giorni sulla sanità, i cittadini sanno benissimo quella che è la verità e sta emergendo sempre più al di là delle chiacchiere, delle strumentalizzazioni che si fanno, che da quando sono sindaco in realtà le cose sono cambiate, la situazione è migliorata decisamente, sono aumentati i servizi, è aumentata la qualità e tutte le accuse che mi vengono rivolte in realtà dovrebbero farle a se stessi perché sono tutte questioni avvenute, scelte avvenute quando io non ero sindaco. Anzi, se proprio la devo dire fino in fondo, con un'onestà intellettuale che deve essere riconosciuta, se c'è uno che ha difeso la sanità a Fano e il Santa Croce sono proprio io ed è dimostrato dagli atti, dalle prese di posizione, dalle riunioni che ci sono state dove ci sono mie votazioni anche contrarie rispetto a chi magari prima, oltre alle chiacchiere che stanno facendo oggi, hanno dato un consenso e hanno espresso pareri favorevoli.